Noi non siamo nessuno, la nostra missione è controllare l'attività aliena sul pianeta Terra. Flaco, lo sai che non devi pazzicare al nord di Canal Street. Chi è Flaco? Tranchillo, scemo! E stanno buscando me, non te! Allucinante, vero? Due uomini adulti che parlano al muro e il muro gli risponde. Bel casino. Ma ehi, non ti preoccupare. Verbale incidente. Accesso negato. Ci sono cose che non ti serve sapere. Questa balla non me l'hai detta quando mi hai reclutato. Ti ho promesso solo i segreti dell'universo. Bene, quali altri segreti ci sono? K! K! Sto cercando K, l'hai visto? Un signore anziano, un tipo intrattabile. Sorride così. K è morto da più di quarant'anni. Tieni, prendi questo. Ora devi solo saltare. Qua che faccio è un salto. Un salto nel tempo. K! Come sai il mio nome? Sì, è un salto. Un salto nel tempo. E in un salto. Un salto nel tempo. E in un salto nel tempo. Grazie.